Giuseppe Rotondo, testa di serie numero 2 del torneo Gioia Sport Cos'è provato a giocare contro il giovanissimo Pierpaolo Tomaselli? No, è stata una partita abbastanza piacevole, ci siamo comunque divertiti Pierpaolo è uno di quei ragazzini del nostro circolo del CT Gioia 74 Lavora costantemente anche con il nostro bravo maestro Giulio Interestale Sono ragazzini che comunque nel tempo sono destinati sicuramente a crescere Sicuramente oggi è per avalzo un pochettino anche la mia esperienza Perché ho molta più esperienza rispetto a lui, quindi più barretta di colpi e tante altre cose Ho visto Pierpaolo molto timoroso, forse hai rispettato più di tanto l'anziano Giuseppe No, no, veramente no, è stato bravo lui in confronto È stato proprio bravo nel gioco, quindi ti ha messo in difficoltà con le palle corte E con il suo gioco un pochettino anomalo Sì, sì Va bene, in bocca al lupo Peppe per il futuro Grazie, adesso andiamo avanti Io ce la metto tutta per continuare questa mia marcia Speriamo che i risultati mi diano ragione Ci sono giocatori molto ma molto bravi Mi piace sottolineare lo spirito con il quale si fa questo torneo Lo spirito soprattutto dell'amicizia che ci accomuna un pochettino Bravo, hai fatto bene E ti ringrazio che hai toccato questo argomento Ma siamo tutti amici, Ernani E in realtà il 90% siamo tutti giocatori come me autodidattici Nel senso che non abbiamo mai avuto un maestro Né qualcuno che magari ci ha insegnato quali sono i fondamentali di questo sport Però diciamo siamo persone che giochiamo a tennis per divertirci Lo facciamo da una vita e ci siamo sempre divertiti E speriamo di continuarlo a fare Il migliore direi è che sia un gran bel torneo Ti ringrazio che hai toccato questo argomento Perché questo torneo è nato proprio all'insegna Della amicizia, dello sport e dell'unione Grazie, grazie